Obiettivo, allungare la serie utile. Ecco il progetto dell'Arezzo in partenza per Pistoia. In queste prime 11 giornate di Amaranto non sono mai riusciti a mettere insieme più di tre risultati utili, quasi sempre formati da due vittorie ad un pari. Adesso, dopo le vittorie interne con Racing Roma e Renate, oltre al pari esterno con il Livorno, l'Arezzo cerca l'allungo e possibilmente tre punti che in trasferta mancano dal 4 settembre. La Pistoiese di Remondina si presenta con una sola vittoria, sei pareggi e cinque sconfitte. Ecco i numeri di una Pistoiese che vanta anche 14 gol fatti e 15 subiti. Probabile che Remondina si affidi ad un 4-3-1-2 per fronteggiare gli Amaranto, pronto a diventare un 4-3-3 all'occorrenza. L'undici titolare vedrà Feola tra i pali con Guglielmotti, Colombini, Priola e Zanon in difesa. A centrocampo l'ex Benedetti con Minotti play basso davanti alla difesa, supportato da Luperini in vantaggio su Amlili. In attacco l'idea di base dovrebbe essere quella di Finocchio trequartista con Colombe e Rovini in attacco, anche se sono in rialzo le quotazioni di Ghiasi. Con la Pistoiese che a quel punto passerebbe al 4-3-3. Nell'Arezzo l'unico dubbio è Pietro Arcidiacono. La formazione di Mister Sottili alla prima da ex al Melani sarà la stessa vista all'opera dal primo minuto contro il Renate. Unico dubbio la presenza o meno di Pietro Arcidiacono. All'occorrenza entrerà nell'undici titolare Bearzotti. Calcio d'inizio alle 14.30. Arbitro dell'incontro il signor Giovanni Luciano di La Mezzia Terme, coadiuvato da Mattia Scarpa di Reggio Emilia e Tommaso Diomaiuta di Albano Laziale.